ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario enterprise informazioni commerciali titolare candioli srl concessionario candioli srl confezioni enterprise polvere 450 g formulazione fruttoligo saccari di 50 per cento maltodestrina lieviti e prodotti simili prodotti ottenuti dalla biomassa di microrganismi specifici coltivati su determinati substrati 0 e 0 8 per cento additivi per chilogrammi additivi organolettici gliciriza glabra l estratto di liquirizia mg 9330 vitis vinifera spp vinifera estratto secco di uva 2b 485 mg 30 mila e no vita promotori della digestione saccarumice socere visia e cncmi 1077 4 a 1711 mg 25 mila indicazioni enterprise a un prodotto per cavalli sportivi che unisce una elevata concentrazione di microrganismi ad azione probiotica ai frutti oligosaccaridi fos fibre nutrizionali presenti in molti vegetali la cui fermentazione determina la produzione nell'intestino di benefici acidi grassi volatili gli specifici estratti di origine vegetale gliciriza glabra eviti svinifera e novità marchio registrato concorrono proteggendo l'intestino alla ottimale digestione della razione nel suo complesso enterprise contribuisce all'equilibrio della microflora intestinale e allo svolgimento delle normali funzioni digestive posologia cavalli adulti 1 misurino da 20 g 2 volte al di pulidri oltre i due mesi di età 1 misurino da 20 g al dia suddividere la dose giornaliera totale in due pasti somministrandola immediatamente prima dell'assunzione del concentrato e per 10 20 giorni consecutivi in caso di campi di scuderia somministrare da quattro giorni prima del trasferimento a otto giorni dopo in occasione di partecipazione a concorsi ed eventi equestri da due giorni prima della gara due giorni dopo tempi di sospensione non pertinente fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato